Bentornati ragazzi sul mio canale, questo è un video spacchettamento Avon Vediamo subito le clienti cosa hanno acquistato Abbiamo questa bottiglia di profumo femminile che è di 50 ml C'è un'altra bottiglia sempre uguale Questo profumo da borsetta Vediamo se riesce a mettere a fuoco E poi abbiamo quest'altro qui, magari lo apriamo così vi faccio vedere il colore Diciamo che è solo per una cliente quindi abbiamo pochissimi prodotti da vedere Eccolo qua Ho preso i cataloghi nuovi che poi magari sfoglieremo insieme in un video Una bellissima copertina Voglio vedere bene se nel palco abbiamo altri prodotti da vedere Ma no, sono tutti cataloghi Quindi ragazzi il video spacchettamento termina qui, è molto breve perché comunque abbiamo pochissimi prodotti da vedere Ho voluto fare lo stesso video spacchettamento perché comunque mi piace farvi vedere ogni pacco che mi arriva Allora ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici E noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video